Ciao, siamo alle sobre! E come potete vedere ci troviamo qui, presso gli studi della Digital Play Record. E finalmente, cari sovrini, dopo tante peripezie, siamo pronti per farvi ascoltare i nostri brani ricchi di sobrietà. Ebbene sì, perché oltre alle sopre potete tranquillamente seguire la Digital Play Record su Facebook, alla pagina ufficiale appunto Digital Play Record, perché a breve partirà il talent, il nuovo talent della Digital Play Record. Quindi, se sai cantare, se sai ballare, è proprio il caso nostro. Mi raccomando, affrezzatevi per le selezioni e cercate informazioni sulla pagina ufficiale Digital Play Record. E vi ricordiamo che anche noi ci siamo su Facebook, ricordiamo la nostra pagina ufficiale, MESOBRIE. MESOBRIE. Bene, cosa possiamo augurare al nostro caro pubblico, ai nostri sobrini? Auguriamo Natale splendido e splendente con la Digital Play Record. Digital Play Record, i vostri sogni diventano realtà. Un bacio, seguiteci. Balla, 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 balla il senanoi. Tantata, patata, patata, con la digital play. Balla, 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 balla il senanoi.